Durante le guerre le lance furono utilizzate per la primissima volta durante la conquista della Grecia messa in atto da Filippo II di Macedonia, cioè tra otto secoli rispetto l'anno dell'ambientazione del film. Lo stesso vale anche per questa tipologia di elmi. La cavalleria, invece, era utilizzata esclusivamente a scopo di ricognizione e in nessun caso partecipava alla battaglia. Nella stessa scena, le ombre dei cavalli cadono di lato e i contemporanei di fronte a loro. Ci vogliono dire che per chiamare Achille, l'unica persona che potrà cambiare le sorti della battaglia e salvare la vita di chissà quante persone, invece di inviare un gruppo di soldati, hanno deciso di mandare un ragazzino di 10 anni. Molto professionale, mi dicono. Non voglio assistere a un altro massacro. Risolviamo questa guerra alla vecchia maniera, il tuo miglior guerriero contro il mio campione. Ma se Gamenone già sapeva che avrebbe proposto il suo duello tra i due migliori guerrieri. In primis avrebbe dovuto assicurarsi che Achille fosse presente tra i suoi soldati, ma a quanto pare se ne fregato minimamente e come conseguenza ha fatto la figura dello stupido davanti a un intero esercito. Poi se vogliamo essere precisi, dato che il film si basa sul poema Iliede, nell'anno in cui ebbe inizio la guerra di Troia, Achille non era un uomo sulla Trentina, ma era un ragazzino di soli 15 anni. Sul cavallo di Achille compare la sela dopo qualche istante. A giudicare da questo segno sulla spalla, il vaccino contro il vaiolo era diffuso già nel 1200 avanti Cristo. Oltretutto mi stupisce un sacco vedere ai piedi di Achille queste scarpe moderne nell'epoca in cui si portavano esclusivamente i sandali. Boagrias ha solamente lo scudo nella mano, un attimo dopo gli compare una seconda lancia praticamente dal nulla. Tra l'altro la prima lancia è rimasta a terra vicino allo scudo, un attimo dopo scompare nell'aria mentre lo scudo si capavolge, per poi tornare tutto nella posizione iniziale qualche secondo più tardi. Quando Boagrias cade morto a terra, vediamo che sulle ginocchia sono attaccati due grandi cerotti che coprono le ferite subite probabilmente durante le riprese precedenti. Tralasciandoli in utilità di costruire un porto sugli scogli così alti, la città di Sparta non si trovava sulle coste e quindi non ha mai avuto nessun porto. Ammetto che Diana Kruger è una ragazza molto carina, ma ci vuole un bel coraggio per darle il ruolo della donna più bella al mondo. I capelli di Elena pendono sulla schiena, un attimo dopo in avanti e poi di nuovo sulla schiena senza che lei li avesse toccati durante questa scena. Tralasciando il fatto che durante quegli anni il 99% della popolazione non conosceva nemmeno l'aspetto del proprio re o della regina. Se oltre a questo Elena era coberta dal cappuccio, in che modo il pescatore è riuscito a riconoscerla in viso? Che poi se ne accorta un tizio a caso e non Ettore o qualche altro soldato troiano? Cioè parliamo di una piccola nave, non di una flotta enorme. Sulla stupidità di Ettore potrei fare un video a parte, i suoi comportamenti non hanno alcun minimo senso durante tutto il film, ma vabbè analizziamo un ottimo questo frammento. Se Ettore è un patriota, ama moltissimo la società e il suo popolo e oltretutto sa benissimo che il fratello cambia le ragazze più spesso delle mutande, invece di riempirlo di schiaffi, chiuderlo nella prigione e riportare Elena indietro inventandosi qualche scusa, decide comunque di lasciar perdere tutto e credere all'amore immenso che è nato tra questi due nel giro di una settimana. In tutto ciò il film ci mostra anche la scena dove Ettore viene a conoscenza della situazione prima ancora di partire e nemmeno qui decide di fermare il fratello per mettergli la testa a posto prima che sia troppo tardi. In fondo chi se ne frega della pace che il padre sta coltivando da anni proprio per prevenire guerre che potrebbero portare Troia alla rovina. L'amore viene prima di tutto. Anche la città di Micene non si trova sulle coste, ma è situata nella parte centrale del paese. Ancora devo capire come mai tutti i templi sono così rovinati e antichi come li vediamo ora nell'epoca moderna se a 3.000 anni fa dovrebbero essere appena costruiti. Da quel che sembra nella città di Troia nel 1200 a.C. già si fabbricavano gli ombrelli da sole moderni. Così come anche i coriandoli, inventati solamente alla fine del 1500. Culmine lo raggiungiamo nel momento in cui notiamo questi lacci con la punta classificata sull'armatura di Orlando Bloom. Queste vorgine dorate nei capelli di Ettore spariscono completamente nella scena in cui saluta Briseide. Lei, tra l'altro, non viveva nemmeno a Troia come viene mostrato nel film, ma nella città alleata all'Irneso. Sparta non è mai stata la mia casa. Mio padre mi ha spedito lì a 16 anni per sposare Menelao, ma non è mai stata la mia casa. Oddio, Sparta non è mai stata la tua casa. Ti hanno portato lì a 16 anni. Impossibile siccome il tuo nome è proprio Elena di Sparta, figlia di Tindaro, re di Sparta e si è nata e vissuta lì. Le navi greche sarebbero dovute essere avvistate non appena comparse all'orizzonte e non dopo tutto questo tempo quando sono quasi per sbarcare. Scena completamente priva di senso. I lama venivano allevati esclusivamente in Sud America. Non c'era nessuna possibilità che nel 1200 a.C. questi animali potessero trovarsi su un altro continente. Durante questa ripresa notiamo una bella suola di gomma fabbricata a partire dal XX secolo. Durante la guerra di Troia, la flotta guidata da Achille era formata da circa 50 navi e c'era un esercito più che numeroso, altro che una ventina di soldati su una sola nave. Per pura volontà del regista, i troiani aspettano senza motivo, invece di riempire la nave di Achille e di frecce prima ancora che questo sbarchi sulla spiaggia. È ridicolo il fatto che centinaia di arcieri non sono riusciti a uccidere un minuscolo gruppo di persone. Nello scudo di Achille si infilza una freccia che scompare nell'attimo successivo. Ciò vale anche per lo scudo di Ajace sul quale le frecce spariscono in continuazione. Che poi si nota a occhio nudo che la gamba di quest'ultimo, traffitta dalla freccia, è circondata da un tessuto color pelle. Achille uccide lo stesso soldato due volte di fila. La sua armatura di color dorato diventa completamente nera. Ok che Achille è un soldato praticamente immortale, ma per tagliare la testa una statua metallica di questo spessore, la lama, per non spezzarsi, dovrebbe essere forgiata da Damantio. Se poi mettiamo in conto il fatto che la sua madre non era una dea, dato che il regista ha deciso di eliminare l'elemento divino e soprannaturale del film, il motivo della sua forza sovrumana non viene minimamente spiegato. Le scale sotto la testa di Apollo sono vuote un attimo dopo compare questo cadavere. Ajace potrebbe almeno fingere di zoppicare, dato che gli è stata trafitta una gamba dalla freccia. Non parliamo di un semplice graffio. Cliccia dei personaggi che aspettano dietro l'angolo la frase giusta per fare un'entrata epica davanti alle telecamere. La mano di Elena scompare dalla spalla di Ettore durante il cambio di inquadratura. Ma perché il sole sorge dalla parte dell'oceano se questo si trova a ovest rispetto alla città di Troia e quindi seguendo la scienza, lì il sole dovrebbe tramontare? Ma gli scudi dei troiani, così come anche quelli degli spartani, erano rotondi. Non capisco per quale motivo il regista ha deciso di utilizzare quelli rettangolari usati principalmente dall'esercito romano. Durante il duello tra Paride e Menelau, il sole batte sia da destra che da sinistra. Ma se il film si basa sul poema di Eliade, perché il regista cambia gli avvenimenti senza alcun motivo. Cioè Menelau non fu ucciso da Ettore, anzi, una volta conquistata la città di Troia, visse ancora un sacco di anni prima di morire di vecchiaia a casa sua. Migliaia di soldati hanno lasciato metri di spazio libero giusto per rendere epico lo scontro tra Ettore e Ajace. Un pezzo del martello si stacca dal resto dell'arma durante il duello. E seguendo l'Eliade, Ajace non fu ucciso da Ettore. Questo decise di suicidarsi per non perdere l'onore una volta impazzito a causa di un vincantesimo che le è stato lanciato durante la battaglia. In questa ripresa, alla sinistra della torre dovrebbe esserci il muro, che polesemente non è stato disegnato dai grafici. Ecco che un'altra volta il regista se ne frega della storia. Nella Grecia antica, la moneta per pagare Caronte non veniva posta sopra gli occhi, ma era introdotta sotto la lingua del cadavere. Senza dimenticare il fatto che durante la guerra di Troia non esisteva ancora questa tradizione, per il semplice motivo che le monete non c'erano nemmeno. I primi a cognarli furono i Lidio nel VII secolo a.C. e i greci li seguirono a breve distanza. E per finire, il mito di Caronte, il traghettatore degli inferi, non era ancora stato inventato nel XIII secolo a.C., ma qualche secolo più tardi rispetto alla nascita delle monete. Il regista non ci spiega dove i greci abbiano preso tutti questi tronchi per bruciare i defunti in mezzo a una specie deserta. Non ci crederò mai nella vita che una regina cresciuta in mezzo alla ricchezza sapesse cucire le ferite di questa portata. Ehm, lo sarà se avrà dell'acqua per lavare il sangue dal viso? Nel momento in cui il padre si alza in piedi, Ettore sta al centro di fronte all'acqua. Durante il cambio di inquadratura si sposta di un metro verso l'angolo sinistro. Tutte le navi vengono illuminate da dei potentissimi proiettori di luce artificiale. Le palle di fuoco esplodono senza alcun motivo, giusto per aumentare l'epicetà dell'attacco. Ancora devo capire il motivo per il quale Ettore si dispera in questo modo nel momento in cui scopre di aver ucciso un ragazzo a caso, solo perché questo indossava l'armatura di Achille. E quindi? E tutti i soldati hanno smesso di combattere all'istante, nonostante a questo duello abbiano assistito una ventina di persone massimo. No, Patroclo era il compagno di Aventure, è presunto amante di Achille, non è mai stato un suo parente. Sulla spalla di Ulisse si intravede i tatuaggi nelfico del numero 9, fatto durante le riprese del film I Signori degli Anelli. Il sangue sotto il naso di Patroclo scompare dopo qualche secondo. Così come anche la sabbia sul viso di Audoro. Se Ettore ha ucciso Patroclo trafiggendogli il petto con la spada, come mai il foro è scomparso completamente nel momento in cui Achille indossa la sua armatura il giorno dopo? Le scarpe vicine al letto cambiano di posizione senza essere toccate. Lo scudo compare nelle mani di Achille nel giro di un attimo. E ovviamente tutto il sangue che è stato versato a terra durante questa battaglia qualche giorno dopo è scomparso completamente. La cicatrice di Glauco è totalmente diversa rispetto a quella all'inizio film. L'elmo di Ettore si piega come se fosse fatto di gomma. Durante il duelo dei due sulla sabbia cade l'ombra della telecamera. La punta della lancia è diversa rispetto a quella spezzata durante lo scontro. Si nota a occhio nudo che al posto del cadavere di Ettore c'è un manichino fintissimo. E seguendo l'Iliade, Achille trascina il corpo di Ettore per tre giorni con pieno dei giri intorno alla città prima di portarlo alle navi. Il pezzo della lancia incastrata nel corpo è scomparso nel nulla pochi ottimi dopo. Tra l'altro i cavalli di Achille erano entrambi neri dopo la battaglia a questo sinistro di vento marrone. In alcune scene, più che luce lunare, sembra che ci troviamo in pieno giorno. Il mantello sulla spalla di Priemo si è giusto senza l'uito di nessuno. Ma che senso hanno queste promesse se non sei tu il capo dell'esercito greco? Questi tronchi bruciati, in realtà, sono fatti di polistirolo pitturato di nero. Priemo chiede ad Achille di poter mettere due monete sugli occhi di Ettore per pagare il viaggio della sua anima, per poi bruciare il corpo del figlio senza monete. La stessa scena viene ripresa due volte di fila da due inquadrature differenti. Agamemnon fu ucciso molti anni più tardi dopo la conquista della città di Troia. Questi puntini gialli sono l'armatura di Achille scompaiono completamente pochi attimi dopo. La freccia che ha trafitto il tallone di Achille è assente durante questa inquadratura per poi comparire in quella successiva. Tra l'altro, Achille, seguendo il poema, fu ucciso prima ancora della costruzione del cavallo di Troia. Questo tempio che si intravede sullo sfondo scompare completamente durante la scena finale. L'assedio della città, durato dieci anni, in questo film dura giusto quattordici giorni. Grazie a tutti.